Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordè. Un battesimo per Terre Italiane, un flex store qui in Milano. Ne parliamo con Bruno Moro, director merchandising Carrefour. Questo store... E con grandissimo orgoglio che oggi presentiamo un nuovo format per Carrefour Italia. È uno store che abbiamo chiamato Terre d'Italia, prende il nome dalla nostra linea di articoli premium. Premium per qualità, ma la cosa interessante è che si chiama Terre d'Italia perché sono solo prodotti italiani. Abbiamo individuato piccoli produttori ubicati in tutte le zone boccate delle regioni italiane che producono prodotti DOP, IGT, DOC, DOC, che rappresentano le eccellenze della nostra Italia. Con questo store desideriamo non solo testare un'esperienza di acquisto per i consumatori, desideriamo anche che i consumatori possano consumare queste eccellenze italiane sia per i vini sia per tutta la parte alimentare. Abbiamo infatti fuori al negozio un dehors da 30 postazioni dove si può fare un light lunch di lavoro, si può fare un aperitivo con gli amici, con i familiari, con un giusto rapporto qualità-prezzo. Pensate che un aperitivo con un tagliere di salumi potete degustare mortadella dell'Emilia con pistacchi, bresaula della Valtellina, prosciutto crudo di Parma da 24 mesi e coppa piacentina DOP per 8 euro. Se poi volete unire un calice di vino, partiamo da 4,50 euro in su, ma se desiderate e avete individuato una bottiglia che avete già degustato e che magari costa anche di più e l'avete vista al nostro banco e desiderate degustare quella bottiglia, basta che lo chiediate ai nostri ragazzi e noi volentieri ve l'apriamo. In conferenza stampa è stata presentata come una start-up, quindi c'è stato un minimo di studio. Cosa vi aspettate? La cosa bella per una multinazionale è lavorare con un approccio da start-up che è completamente l'opposto. Le multinazionali cosa fanno? Prima di fare qualsiasi cosa 10.000 P&L. La start-up fa un P&L e parte subito, è in corsa, raddrizza il tiro. Abbiamo voluto aprire questo store con questo concetto. Abbiamo fatto un P&L, ci mancherebbe, abbiamo sentito i clienti che cosa si aspettano e siamo partiti. La cosa interessante è che abbiamo creato una struttura a quattro mani, acquisti e vendite e logistica che risponda tutti i giorni alle richieste dei clienti. E in corsa siamo pronti a raddrizzare il tiro, non solo dal punto di vista assortimentale, puntando più su qualcosa che su altro, a seconda del peso dei nostri clienti, ma addirittura siamo pronti in futuro, se il progetto riuscirà a essere sostenibile, a rivalutare anche la metratura. Da Milano con Bruno Moro, un brindisi con voi a domani.